Siamo qua a Gezzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero. Buonasera, grazie per l'ospitalità, grazie agli organizzatori dell'evento e grazie per avermi scelto come persona che può esprimere opinioni, spero importanti o comunque funzionali alla crescita della cardiologia e al miglioramento della sanità in Calabria. Farò tutto ciò che è possibile fare per rispondere alle esigenze dei cittadini partendo dal presupposto che quando si esercita questa professione bisogna tenere come punto di riferimento il vero faro che dobbiamo seguire e la centralità dell'ammalato. Quindi tutto in funzione del miglioramento considerato che vi è un'esigenza, un'aspettativa di salute sul territorio calabrese che cresce sempre più, direi quasi a dismisura. Noi siamo gli operatori sanitari che offriamo la nostra professionalità per la cura delle malattie cardiache. Grazie.